Ciao a BetTaste.it, videoblog numero 6, Gabriele Aniola, Alessia Pelonzi, Gianluca D'Adomo, un gruppo di attori qua vicino, fan di BetTaste, giovanissimi, giovanissimi che stanno qui, che ci aiutano, si coprono dal sole. Allora, videoblog number 6, oggi è lunedì 7 settembre 2015, questa che cos'è? Dove siamo? Cos'è? Eccola qua, 72esima edizione della mostra, 72? Ho capito, 71esima. No, no, 72esima edizione della mostra del cinema di Venezia, recuperiamo Alessia, che ieri ci ha lasciato soli, e Alessia ci deve cazziare su un film e dica la sua su un altro film. Vai Ale. Allora, The Danish Girl, ragazzi, io pensavo veramente che l'assenza della carne mi avrebbe ammorbata per tutto il film, e invece secondo me è uno dei pregi maggiori del film, nel senso che un argomento così, secondo me, andava trattato in quel mondo. Quindi su questo io sono leggermente, finalmente, sono in disaccordo con i miei belli e bravi colleghi, perché purtroppo, cioè purtroppo per fortuna di Tom Hooper, che a me non piace come regista, infatti l'ho trovato molto migliorato, cioè ho trovato che ci sia una personalità in più, un gusto meno televisivo rispetto a quello che c'era nel discorso del re in particolare, e quindi ho trovato un'evoluzione dal punto di vista registrico. Le critiche all'interpretazione di Redmayne che ho letto, perché in realtà da parte vostra sono state moderate, non le trovo assolutamente fuori luogo, credo che uno dei pregi del film sia il fatto di riuscire a raccontare un dramma così fisico, un dramma della fisicità, riuscendo ad astrarlo e riuscendo a renderlo in qualche modo anche più universale, quindi andando un pochino più sull'universale appunto, senza dover motivare quello che ho detto. Ho trovato spettacolare lei, un ruolo difficile quanto Alicia Bicander, eccezionale, bellissima, quindi niente, io devo dire a me è molto convinto, l'ho trovato tra i film più efficaci, film tradizionale certo, non è un film che ha una struttura chissà quanto elaborata, però io sono solo di fatto. Ok, film in concorso quindi, tu lo vedi anche con delle possibilità di palmaresse? Ma, sinceramente no, perché, anzi, ripensandoci mi sembra anche un po' fuori luogo. Lo preferivi come fuori concorso? Sì, decisamente, per quanto forse potrebbe esserci una qualche possibilità per lui, forse, non so, vorrei sperare per lei, ma chiaramente è una, credo sia una speranza vana. Beh, per adesso è uno dei ruoli femminili più forti, quindi Alicia per adesso sta abbastanza bene, abbastanza bene, vediamo, vediamo. Poi Alessia, si è sparata ieri il controverso a Bigger Splash, di cui io e Gabriele abbiamo parlato ieri, dici che ne pensi, Ale? Io ne penso bene, ne penso bene più che male, devo dire, mi è piaciuto più dell'attesa, quindi finora dei film italiani in concorso, erano due per il momento, è quello che mi ha convinto di più, ha dei tocchi purtroppo un pochino trash, ha delle... Ha Bigger Trash? Ha Bigger Trash ogni tanto, però ha dei tocchi anche di grande inventiva dal punto di vista visivo, ho trovato delle cose molto belle anche a livello di direzione degli attori e Ralph Fines o Fines, che dir si voglia, mi ha divertito tantissimo, esageratissimo sopra le righe in una maniera quasi fastidiosa a volte, ma va bene così, quindi per me è peccato un po' uno scivolone sul finale, Guzzanti totalmente... beh, con lui forse è davvero troppo sopra le righe, è un po' messo a caso, sembra un film aggirato da uno straniero per la visione che dà degli italiani, però... Ma Luca è un po' uno straniero, è un po' uno straniero in patria, guadagnino... Decisamente, però per me è sì, per me è sì, quindi Luca Daie alla grande, mi sei piaciuto. Anche per noi, e più sì che no, ci siamo un po' veramente, per quanto avevamo amato forse, no, la prima parte, ma i tre quarti di film, questo finale però... No, però per me no, io ci sto anche nel fila da bestia, mi piace, mi piace molto. Ah, ok, allora Gabriele è totalmente sì, io penso che il film crolli totalmente, e invece Alessia è sì, forse è più d'accordo con me. Allora, arriviamo, facciamo un salto indietro a ieri, domenica 6 settembre per la sera, intanto vorrei aggiornare sulla rubrica più da Tome e meno da Domo, abbiamo vinto con l'Islanda a fatica, Gigi si è fatto pure male, gliel'hai tirata, mi riferisco a Domo, e giochiamo domani con la Spagna, difficilissima, ci asfaltano però, vedremo. Adesso, che cosa vogliamo dire di ieri? Vuoi ricordare qualcosa? Sì, perché io stamattina ho visto Il Clan, che secondo me è il film più bello del concorso che ho visto adesso, è un film semplicemente straordinario, perché come, velocissimo, come molti film in questi ultimi anni, sia in Europa che in Sud America, stanno rielaborando la stagione criminale degli anni 70 e 80, il clan fa questo, racconta la storia vera di questo clan, una famiglia che sequestrava, abbiamo detto ieri, che sequestrava le persone, ma sono una famiglia, e questi film si contraddistinguono dal fatto che ognuno determina come il proprio paese prende o meno le distanze da quei fatti, cioè sono film che elaborano quelle cose, gli siamo vicini, gli siamo lontani, come ci relazioniamo? La Rain ha un modo tutto suo di prendere le distanze, di dare la colpa agli individui ma farla risalire allo stato, mentre invece questo film è fichissimo perché con la forma è vicinissimo ai personaggi, cioè è un film con un sacco di musica, un sacco di montaggio, sembra, è particolarmente in stile hollywoodiano, anche se un po' tutti questi lo sono, però questo particolarmente, quindi gli dà l'epica, gli dà la grande epica a questi personaggi, ma l'interpretazione di Guilhermo Francavilla che è il personaggio protagonista e che era il detective ubriacone ma fortissimo del segreto dei suoi occhi. Altro film che aveva a che fare con il passato dell'Argentina, capolavoro di Campanella. Lui è il capofamiglia e lui con la recitazione va in un'altra direzione, quindi la forma del film avvicina, il personaggio è talmente schifido, vicido, interpretato come una malvagità talmente radicale che allontana e questo doppio movimento è fenomenale, rende la complessità del rapporto che noi abbiamo col passato criminale. Ci piace ma sono criminali e ci fanno schifo. Hai trovato una somiglianza tra gli occhi geli di Tipuccio e Jimmy Bulger di Senni d'Empio? Sì, è vero, hai ragione. È quasi un albino... Gli occhi troppo chiari per essere veri. Mamma mia, fa che paura che fa Francavilla in questo film, soprattutto quando incontra nel negozio di scarpe. Li guidi ancora gli aerei? Quando glielo chiede, sappiamo cosa succedeva con quegli aerei, buttavano i corti delle persone, li guidi ancora gli aerei e si illumina in viso. Io ho i brividi ancora a ricordare quando si illumina con... No, invece no, vendo le scarpe adesso. Ok, allora, Endless River, vado io? Vai. T'ho dimenticato? Perché anche io, eh? Vado io? Francamente sconcertante, siamo in Sud Africa e c'è un francese che è arrivato in Sud Africa e c'è un fatto di cronaca nera, la cronaca nera molto presente in questa edizione della Mostra del Cine di Venezia e c'è questo francese che forse si vorrebbe vendicare, va a prestare la polizia. Noi scopriremo che poi lui legherà forse con la moglie di un possibile sospettato, sospetto per la mattanza atroce che la famiglia del francese ha subito nella fattoria sud-africana. Grossi fischi, il film comincia con, sembra il Cavaliere della Valle Solitaria, sembra Shane, si, ha una titolistica, ma è molto, da un giallo fortissimo e ha anche un tramonto, noi che ci siamo risparati via col vento, ha anche un'immagine di tramonto con albero che è via col vento di Victor Fleming. Io ho pensato, cazzo, bellissimo stimizio, ma che è sta roba? E poi mi sono abbastanza annoiato ed è uno dei film più inconcludenti, anche se misteriosi, affascinanti, un po' per perversi, ma io sono un perverso. Non so se l'Average Joe, non so se un pubblico meno perverso può trovare qualcosa in Endless River, non mi dico come va a finire, però insomma, sti due poi, insomma, tecnici. Io che non sono un perverso, veramente, è un unico grande punto interrogativo. Cioè perché l'hanno selezionato in concorso? Ma no, ma in generale questo film è esattamente cosa racconti? Cioè, appunto, c'è un caso di nera, due vittime di due, cioè, due persone perdono qualcuno, sono legate in questo caso, anche se hanno perso le persone, non si conoscono, ma si dovranno conoscere perché sono legate da questo caso, e poi succede qualcosa, ma c'è sempre un... Sì, va bene, ragazzi, ma... Why? Cioè, sì, non sto capendo con il punto di questa storia. E poi finisce. Alla grande uno, che io ho anche capito chi è, perché è sempre lui, a fine film... Ha fatto? Ha gridato fortissimo, incompetente! A chi? A te, però. Io credo a me. No, a te. Allora, c'è qualcuno... No, a te. No, lo diceva a te. Quello che lo segue... Sì, perché ti sei... Avrai fatto qualcosa, avrai tirato una cosa contro te, quindi c'è una persona che urla incompetente a Niola, cercheremo di capire... Sì, sì, lo so. Cercheremo di capire chi è. Sì, vabbè, il clan ti è piaciuto una cifra. Arriviamo a oggi, Caligari, il gambinetto del dottor Caligari, cioè Claudio Caligari, postumo, e fece furore qui a Venezia con una proiezione tossica di Amore Tossico, che è il suo film più celebre, ambientato a ostia, tutti che se bucavano come Janis Joplin, vicino a dove sono cresciuto io, e tutto dire, Gabriele l'ha visto e... L'ha detto un sacco, tra l'altro poi riprende... Se siete fan di Amore Tossico, subito la prima scena si apre con lui col gelato, che è già una cosa che se sei fan di Amore Tossico è spettacolare. Io mi aspettavo un disastro, perché è un film che gliel'hanno fatto fare Mastandrea Giallini, che non si doveva fare, non si duravano i fondi, sai? Queste lavorazioni che ti fanno intuire che c'è qualcosa che non va, invece è bellissimo. È un film alla Caligari, quindi Amore Tossico più l'odore della notte. Proprio Amore Tossico più l'odore della notte, crimine e droga, praticamente ci sono anche molte cose nuove, strano a dirsi per un regista che poi è stato inattivo per così tanto tempo, ma in realtà... Abbiamo citato la sua filmografia... Sì, esatto. Abbiamo citato la filmografia di... Questa è la filmografia, sì. ...del regista più punk, forse, insieme ad Alberto Griffi, ma però Griffi era veramente molto lontano dal mainstream. Claudio Caligari, forse il regista, il nostro Alex Cox, il regista più punk della storia del cinema italiano. Un film con un'intelligenza vivacissima, è una storia di droga, perdizione di criminali, a Ostia c'è un Marinelli fenomenale. Luca Marinelli. Fenomenale. Meraviglia assoluta, uno degli attori più grandi del panorama italiano, lanciato dall'ultimo terrestre di Gipi al cinema, ma ci piacque tanto... Ma non viene prima... No, è prima... Sì, i numeri primi è prima. Bisogna che viene prima i numeri primi. Ecco, che ne pensi del fatto che potesse essere messo in concorso posto? Secondo me dovranno mettere quei quattro italiani e un quinto non ce l'avrebbero mai messo, ma mai proprio. E al posto del bellissimo L'attesa di Pierluschina? No, cioè, questi sono film che devi prendere. Cioè, quel tipo L'attesa, cioè, non... Bello o brutto non importa. Ma non sarebbe stato bello nei confronti di Caligari metterlo in concorso? Sarebbe stato straordinario, anche perché avrebbe vinto qualcosa. Tutti avrebbero detto che avrebbe vinto perché è morto, ma il film è bellissimo, però... Ok. È andata così. È andata così. Rabin, The Last Day. Bello che ti giri verso di me. Io ho visto tutto orizzonti, ho visto Man Out. Allora, un filmone della Madonna, 153 minuti, Amos Gitae, grande regista israeliano, se Russia è Sokurov, oggi Israele è Amos Gitae, va bene, sono quei registi proprio che si identificano perfettamente con il loro paese, anche perché agli occhi nostri di orrido pubblico, occidentale, no? Non siamo abituati a vedere tantissimi registi di queste nazioni, anche se la Russia ha una grande tradizione cinematografica. Rabin, The Last Day, un po' di repertorio, un po' di ricostruzione della commissione d'inchiesta che andò ad indagare che cazzo era successo quel giorno fatidico della morte di Isaac Rabin, ucciso da un israeliano, non ucciso da un palestinese, a seguito degli accordi di Oslo, quei mitici accordi di Oslo, vi ricorderete la foto, Will Clinton in mezzo, gli asserano fatte Isaac Rabin, quando appunto si cominciò, sembrò che il processo di pace, la pace tra Israele e Palestina potesse essere realizzabile. Rabin fu ucciso e da quel momento, secondo Gitae, la situazione è precipitata. Il film è lancinante, se siete appassionati di storia mediorientale sarete ancora più coinvolti e potrete essere d'accordo o in disaccordo con il punto di vista di Gitae che ho amato perché dice quello che pensa, prende una posizione anche dal punto di vista fisico, compare in cameo e dà del bastardo all'attentatore. La figura dell'attentatore è il personaggio più inquietante, altro che Jimmy Bulger per quanto mi riguarda, ha un sorrisetto di soddisfazione quando viene interrogato da una persona che penso che non mi farà dormire stanotte. Questo per dirvi che c'è il repertorio e poi c'è ricostruzione con attori di alcuni momenti del dopo attentato a Rabin. Sembra di stare in Italia, cioè sembra di stare in un paese non serio, siamo abituati a pensare che l'Israele sia un paese serio e sembra di stare in Italia perché c'è lo scaricabarile, non si capisce bene che cosa è successo, la sicurezza, tanto che Gitae fa un po' Oliver Stone e tutto il film c'è un sottotesto di ma non è che qualcuno ha fatto in modo che quella cosa potesse accadere, Gitae ha le palle quadrate, piaccia o non piaccia, di assumere questa posizione. Poi si apre il dibattito e fa un piano sequenza finale che ho trovato splendido, dove collega il Benjamin Netanyahu, giovane, che incitava un po', incitava un po' e fomentava questo clima di odio nei confronti di Rabin, della destra israeliana che non era d'accordo con Rabin, che veniva da lì e quindi la loro spaccatura fu enorme in quel momento storico, c'è Netanyahu, un ragazzino nel repertorio che incita l'odio contro Rabin e secondo Gitae ha portato a quella roba là e c'è un Netanyahu primo ministro israeliano che circonda e che, diciamo, che governa Israele quando questo vecchietto presidente della commissione di inchiesta esce al freddo del suo paese e quindi Gitae prende totalmente posizione e dice quello che poi pensa che sia accaduto nel suo paese dopo. Una cosa devastante, mi è piaciuto da morire, ci sono dei piani sequenza splendidi. Devo dire, a me non è piaciuto, è vero che è molto rivestore, molto JFK, ma anche di più, non è sicuramente chiaramente. Secondo me è un film molto lungo, un film di due ore e mezzo almeno e altrimenti ho trovato abbastanza respingente che è tutto quello che ha detto Francesco e assolutamente concordo, cioè il fatto che fa questo tipo di ricostruzione con quel tipo di punto di vista, di sguardo, con un parere molto forte, tutto quanto, ma la maniera in cui porta avanti questa ricostruzione io l'ho trovata molto molto respingente, cioè Gita in nessun momento, ed è una caratteristica del cinema di Gita che io non tollero, in nessun momento concede qualcosa allo spettatore, è un cineasta che non ha il minimo interesse ad avvincere, pretende una concentrazione dalla parte dello spettatore che non trova mai di compensa e questo in un film poi così denso di dati, informazioni, eventi, cose in cui l'attenzione deve essere ancora più forte perché non è un film di immagini questo, o quantomeno anche, ma è anche molto un film di parola perché si dicono le cose, proprio no, mi sono molto infastidito. Vale. Non sono assolutamente d'accordo, e vai, finalmente li diamo. È un gran film. Abbiamo interviste? Tu hai beccato Luca. Io ho beccato Luca Lagagnino che mi ha detto tutto che Suspiria, dico solo questo. Andate già online? Penso che sì, conoscendo il buon Bernie è già online. Quindi si sa tutto del mitico, lo stiamo aspettando da 250 anni, remake di Suspiria di Dario Argento che Guadagnino, si sa, prima voleva produrre, David Gordon Green lo doveva dirigere, adesso insomma c'è tutto online grazie a Gab che ha fatto sto scuppone. Ah, e poi ho incontrato Sokurof, ho incontrato Sokurof, Francofonia, esatto, al quale ho chiesto, senti ma tu anni fa mi avevi detto, ancora? E poi avevo chiesto ogni volta, quando glielo chiesti l'altra volta non avevo ancora vinto Venezia, anni fa mi dicesti che tu non partecipi ai festi, perché le competizioni dei film fanno schifo, non ha senso, poi vieni qua e vinci Venezia e torni di nuovo in concorso. E lui? Ma l'avevi finita o un percazzo? Lui mi ha detto, mi ha detto una risposta molto lunga di cui vi dico solo la prima parte, mi ha detto, ecco, io lo sapevo che prima o poi qualcuno me lo chiedeva, così è iniziata la risposta. Secondo me è Sokurof che ti segue e grida incompetente in Stato, Immaginate, facciamo un sogno, facciamo come Arizona Junior dei fratelli Cohen, immaginiamo un futuro, Venezia 2045, Niola che incontra di nuovo Sokurof, che avrà 153 anni e gli dirà, e Sokurof che lo ucciderà, definitivamente quel giorno, che bello, che meraviglia. Allora, vai con gli orizzonti. Vado con gli orizzonti, ma pure velocemente perché devo correre, vabbè, ho visto Man Down, ho visto anche Pecorino in erba, vabbè, ma non mi pronuncio, avendoci lavorato, quindi Man Down, Dito Montiel, o Montiel che dir si voglia, ottime intenzioni, ottime, quattro linee narrative che si intersegano in maniera del tutto incomprensibile all'inizio, e che dire, perde in profondità quello che guadagna in estensione, bravissimo Shia Leboeuf, boh. Allora, più sì che Gabriele, io non ho visto, sì sì, io sono no, proprio. Tu sei no, io ero un no mentre lo vedevo e è uscita dalla sala, ti devo dire che c'è un po' ripensato e devo dire per me non è del tutto no, cioè c'è del buono, c'è questo parallelismo, sarà un po' spoiler, però questo parallelismo, anche banale, però efficace secondo me tra la guerra effettiva e la guerra domestica che funziona, cioè la vita, la fine di un matrimonio come la guerra in Afghanistan, insomma c'è qualcosa che mi ha preso, c'è qualcosa che mi ha preso che mi ha convinto, certo, poi il finale è di un ricattatorio veramente che ti fa cascare le braccia, però per me non è bocciato. Ho visto, ho appena visto Madame Courage di Allouache e ho pianto come un vitello, non so perché, mi ha catturato, sarà che oggi, non lo so, sarò ormonalmente scombussolata, ma mi ha convinto, nel suo genere è un ottimo film, ha bellissime interpretazioni, molto realistico e bello, bello, niente di nuovo, ma bello, niente di nuovo, ma convincente. Quest'orizzonte mi sembra un po' privo di vertigine, sì, molto privo di vertigine, è un orizzonte molto piatto per il momento, però fantastica questa e invece dovrebbe essere la sezione un po' più pazzerella della mostra, infatti ci abbiamo messa la matta di noi, l'abbiamo messa qua, che infatti ora fuggendo scappa, 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 Gianluca in due, Gianluca, bellissima sta cosa, Gianluca in due parole, una cosa che ti ha fatto impazzire di questi ultimi giorni? Gianluca è da domo, scusate, ma no, beh, dopo aver visto Man Down ho perso la voglia di andare al cinema. Quindi sei d'accordo che non andrà mai più al cinema? No, sono completamente d'accordo con Gabriele, Gary Oldman e Shia LaBeouf completamente sprecati, dopo aver letto le critiche ad America's Sniper per come trattava in modo blando e già visto il trauma del Marine tornato a casa, lui con Man Down di De Montiel riesce per la prima ora a non farti entrare in empatia completamente con il personaggio, cioè basterebbe seguire due o tre manuali di cinema per costruire il rapporto del Marine stressato che non riesce a relazionarsi con il mondo eppure lui riesce a mancarlo e quindi già dopo la prima ora ti perde. Poi vabbè non parliamo della fotografia gregiastra completamente settata su standard e gli effetti totalmente inutili. Basta, lo stai a massacrare. Ok, questo era Gianluca da domo, le sue impressioni noi abbiamo chiuso, ci vediamo domani martedì 8 settembre e ricordiamo che abbiamo vinto con l'Islanda gli europei di basket nazionale italiana e domani giochiamo con la Spagna e so cavoli e da donne sta malino. Grande Gabriele Niola, grande Francesco Alò, pessimo Alò, grande Pallonzi che non c'è, grande D'Adomo che... Grande Betteist direi. Viva Betteist!